E' tornata a fare bella mostra di sede ieri mattina, in cima alla torretta di Palazzo dei Consoli a Gubbio, la bandierina e rame che troneggia da secoli sulla sommità della piccola campana, posta in capo alla torre stessa. L'usura del tempo e gli agenti atmosferici ne avevano resa precaria la stabilità, con conseguenze sufficienti a renderne necessario il restauro. A prendersi cura della risistemazione, alcuni artigiani e ugubini, esperti di lavorazione di metalli, su iniziativa della Compagnia dei Campanari guidata da Loris Ghigi. Ieri è avvenuto il riposizionamento della bandierina e rame in cima alla torretta, a cura di alcuni volontari, tra campanari e simpatizzanti. Un'operazione spettacolare, vista anche l'altezza considerevole alla quale è avvenuta, con una veduta tuttavia eccezionale su Gubbio e la Vallata. Un'operazione che, anche per essere ripresa, ha richiesto l'ausilio di un drone. L'operazione ha così consentito alla torretta di Palazzo dei Consoli, uno dei simboli della città che custodisce il campanone, di tornare ad essere completa in ogni suo elemento.